Ed ora in chiusura del nostro Tg Economia, come sempre una pillola di educazione finanziaria a cura di Giusy Biondelli e Maurizio Polli. Noi poi ci rivediamo dopo la pubblicità per la seconda parte di Sviluppo e Territorio. Benvenuti a un'altra puntata di Sviluppo e Territorio, altra clip video per quanto riguarda l'educazione finanziaria per le imprese. La chiave, la chiave dell'imprenditore dell'impresa, in inglese key man. Giusy, cosa vuol dire questa parola stramissima? È utile per le imprese? Certamente, abbiamo sempre più le imprese in cui ci sono presenti delle professionalità molto specializzate e molto formate, con delle competenze declinate nello specifico ciclo produttivo. Quindi a maggior ragione il valore dei nostri collaboratori è importante, soprattutto perché formare i nostri collaboratori per le imprese è un vero e proprio investimento. Quindi, assolutamente, la linea della key man, questa copertura assicurativa, questa polizia assicurativa, è un modo per proteggere le aziende dalla perdita prematura di questi uomini chiave, uomini in senso lato. Ovviamente parliamo di uomini e donne. Quindi può essere inserito in un progetto di welfare aziendale? Può essere inserito soprattutto in un progetto di protezione e di continuità dell'azienda, perché avere una persona che è importante per la propria azienda, per il proprio ciclo produttivo, significa che nel caso in cui non dovesse esserci presente nella nostra azienda potremmo avere un blocco del ciclo produttivo, potremmo avere una perdita di conoscenze, di competenze, il cosiddetto know-how. Quindi il fatto che l'azienda possa pensare ad un strumento che possa coprire da questo rischio è importante. In che modo? La key man non è nient'altro che una linea di copertura temporanea a caso morte, a volte viene abbinata anche ad una copertura di invalidità, e scatta la copertura nel momento in cui dovesse verificarsi il sinistro, l'azienda introita un capitale che è funzionale a sopperire a questa mancanza. Quindi la protezione dell'uomo chiave all'interno dell'impresa. Esattamente, ovviamente il beneficiario di questo strumento assicurativo sarà l'azienda, e quindi in questo caso, in caso di liquidazione del capitale, entrerà nel conto economico dell'azienda e verrà tassato. Nel caso in cui invece dovesse essere messo al servizio della famiglia, invece del nostro collaboratore, quindi diventa un frange benefit per il collaboratore, quindi viene tassato dal punto di vista del frange benefit e non viene tassato il capitale liquidato. Quindi avete visto un altro strumento operativo per la protezione delle imprese, la Keyman, al servizio del futuro delle imprese del territorio. Alla prossima! Buonasera!